ciao beh che dire internet ha dei lati positivi e dei lati negativi lati positivi sicuramente parliamo della possibilità di comunicare con tutto il mondo in modo facile veloce ed economico questo secondo me è il punto principale che identifica il cambiamento che ha avuto internet nella mia vita come penso nella vita di tante altre persone un altro punto invece che troviamo negativo di internet è il fattore truffa economico commerciale nel senso che ogni giorno almeno io devo tutelarmi dalle potenziali truffe ossia persone che cercano di inviarmi email convincendomi che mi regaleranno dei soldi invece sono soldi frutto di evasione fiscale sono soldi ricettati rubati e così via truffe perché se vado a comprare un articolo su un sito non affidabile comunque un punto negativo perché molte volte mi viene inviato un qualcosa che non è di mia richiesta o diverso da quello che io avevo specificato addirittura non mi viene inviato nulla altro fattore negativo di internet almeno nella mia vita internet mi ha portato a trovare la possibilità di lavorare anziché con i privati nel settore pubblico inizialmente pensavo fosse un vantaggio dopo scoperto invece che non tanto per colpa della burocrazia lenta della mia nazione ma per colpa di alcune figure politiche quali sindaci che poi nella vita reale spesso sono altro che avvocati c'è molto assenteismo perché sono imprenditori che hanno altre attività private non possono dedicarsi al lavoratore alla trattativa al bene della società al bene della comunità per i quali lavorano e sono pagati in modo agiato e questo è un fattore negativo perché internet ma distrutto la mia convinzione che il politico l'avvocato il sindaco erano le persone più oneste del mondo invece spesso propongono qualcosa di tecnicamente non lecito ma di illegale spesso rifiutano invece al contrario la possibilità di aiutare la società rifiutano la possibilità di far risparmiare soldi al proprio comune rifiutano la forza perché non hanno le capacità di valutazione e hanno fra l'altro un modo di dialogare pessimo spesso nella mia regione parlano il dialetto spesso dicono no a te o a quell'altra persona quell'altro individuo quell'altro terzo non posso comprare non posso portare avanti il tuo progetto perché devo favoreggiare il mio amico che è un qualcosa di sbagliato e poco professionale questo è stato un fattore che io identificherei in parte positivo in parte negativo che mi ha fatto notare internet perché internet mi ha fatto notare che non è vero quindi che il politico è la figura più per bene che parla bene che aiuta la società ma il politico è chi vede il proprio comodo tranne per le poche funzioni basilari indispensabili per il comune spesso perché mosso dal poco tempo che ha dovendo valutare la sua attività commerciale imprenditoriale quindi non intendiamo ovviamente tutta la casta dei politici ma assolutamente i sindaci nella maggior parte dei casi purtroppo sviluppano un ruolo privato a favore di loro stessi e poi si rapportano col pubblico in un modo poco professionale e poco adeguato però di questo ringrazio internet perché se io non fossi mai andato su internet a trovarmi un annuncio di lavoro con facilità di possibilità di trattativa commerciale con il settore pubblico e le istituzioni pubbliche non avrei scoperto sicuramente che il sindaco o il vice sindaco in realtà sono delle figure che si appropriano dei meriti altrui che siano interni al comune esterni al comune che spesso rifiutano di fare il bene del comune della società anche se probabilmente non se ne rendono conto perché non hanno la competenza o magari perché hanno la difficoltà nel loro ingresso alla burocrazia che si ritrovano davanti questo però sicuramente è un fattore negativo per la società ma un fattore positivo visto dal punto di vista dell'opportunità che il web dà perché il web è comunicazione perché il web è giornalismo il giornalismo denuncia nello specifico tutti questi fatti della possibilità di guardare bene con occhio giudice perché il sindaco in realtà non è una figura poi tanto per bene il giornalismo e la comunicazione denunciano il criminale che compie un reato in un modo di diffusione più vasto rispetto a quello che era prima dell'esistenza del web perché se un omicidio prima lo si vedeva solo per dire in televisione ad oggi invece lo si vede anche su 10 15 20 30 siti e testate giornalistiche importanti e meno che ne spangono la notizia come quando un grosso brand compie leciti e ne nella bufera spesso quel brand ha compiuti leciti più piccoli che non erano mai venuti a galla perché internet in questo quindi un fattore positivo il perché però è semplice che uno spesso non lo nota il web invece ci aiuta a notare che se io vado o altre dieci persone vanno a fare la denuncia in una caserma per 50 euro 70 euro nessuno ci prende in considerazione anche perché la legge dice non ti conviene fare la causa perché ha delle spese di tribunale che una volta non c'era ecco internet ha cambiato la mia vita in che modo mi dà la possibilità di studiare la legge che io ho studiato già per tre anni a scuola in modo più vasto in tanti settori enorme dettagli specifici che e mi fa notare allo stesso tempo che non è spesso giusto quello che appare o quello che la carica apparente di una persona ma che giusto quello che in realtà c'è dietro tutto e questo sicuramente per me è un fattore straordinariamente positivo che il web ha ha donato sia la cultura e la comunicazione che li ha diffuse in modo magnifico l'unico fattore negativo forse del web che non ha un'efficienza continuativa ovunque nel senso che la fibra ottica non c'è dappertutto nel senso che in alcuni punti internet viaggia in modo molto lento sicuramente internet non aiuta molto a caricare video di qualità alta ecco io per esempio che come secondo lavoro faccio il filmmaker sicuramente a casa mia dove ho 5 6 megabyte di internet mi conviene di più per caricare sul web dei video lasciando stare magari la riproduzione su dvd o su blu ray mi conviene assolutamente magari andare in un altro luogo a pagamento dove posso caricare dei video su alcuni siti per motivi di lavoro e in modo più rapido perché il mio download del mio upload è lento perché la comunicazione escluse le zone centrali della rapidità del web di internet ancora oggi è lenta nel 50 per cento della nostra nazione in italia se poi vogliamo dire altri fattori positivi e negativi del web credo che comunque ognuno abbia le proprie motivazioni e le proprie esperienze che ci portano a poter esprimere un giudizio ciao